Apre al pubblico Torino 011 Biografia di una città, la mostra che racconta la trasformazione di Torino dal 1980 ad oggi con uno sguardo al futuro. L'esposizione si propone come uno dei principali eventi della città in occasione del XXIII Congresso Mondiale degli Architetti. Inoltre rappresenta il primo grande appuntamento espositivo in vista del 2011, anno dei festeggiamenti per il 150-nario dell'Unità d'Italia che vedrà Torino protagonista. Collocata nelle OGR, l'ex officine grandi riparazioni, parzialmente recuperate e finalmente aperte a un uso pubblico, Torino 011 Biografia di una città inaugura un nuovo polo espositivo. All'interno della fabbrica di Smessa, il percorso della mostra si snoda in ambienti diversi, dedicati al racconto della metamorfosi di alcuni luoghi. Mirafiori, Lingotto, il centro storico, le spine, letti come rivelatori delle nuove strutture sociali e come condensatori di processi economici e culturali. I visitatori, negli oltre 6.000 metri quadrati all'interno della manica nord dell'edificio ad H delle OGR, sono condotti in un viaggio dai molti percorsi, attraverso grandi mappe interattive, proiezioni, simulazioni, ma anche disegni, schizzi, foto d'autore. Torino 011 Biografia di una città è aperta dal martedì alla domenica dalle 11 alle 20, il giovedì fino alle 23 e prevede una parte del percorso a ingresso libero e gratuito. In questo spazio, l'Arena, Urban Center Metropolitano propone un ricco calendario di eventi dedicati al racconto della città e delle sue trasformazioni. In questo spazio, l'Arena, Urban Center Metropolitano propone un ricco calendario di eventi dedicati al racconto della città e delle sue trasformazioni.